Resident Evil 6 La porta aerei è stata avvistata La porta aerei è dotata di artiglieria antiaerea Eliminate quei cannoni, Alpha Ma aereo contro la porta aerei intera Sembra plausibile Hey Beers, com'è la tua mira? Ma è stata meglio, capitano I preparativi per il lancio sono iniziati E da qui non possiamo fare nulla per bloccarlo Il missile contiene un virus all'interno Se va a segno farà molti più danni di una testata normale Per fermarlo saliremo sulla porta aerei Non c'è scelta Ok, pronti, ora vado Preso! Per fanno! Oh... Chテirico... 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 Il era di questo Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ci sono forse altre navi? Negativo. Le voci dicono solo la porta aerei. La pesta si è inventata tutto. Mi stupirebbe. La pesta si è inventata. Tutti i cannoni aeree sono distrutti. Ok, c'è un punto d'atterraggio, Davide. Fermiamo il missile. Fugia ad Alfa. Il conto alla rovescia del missile è iniziato. Trovate la centralina e fermate il lancio. Licevuto QG, ci pensiamo noi. Il percorso è bloccato. Pensaranno gli esposivi a scoprarnolo. Ok, c'è un po' di più. Ok. 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 Grazie a tutti. Ah, mancava solo questo. Merda, il gioco si fa burro. Presto, Pierce, non c'è tempo! Uccia d'alba, lancio del missile annullato. Ben fatto, Pierce. Ora torniamo sull'aereo in modo da uscire da qui. Pierce, alla gru! Ti tiro su io! Ehi, capitano, sono in svantaggio qualsciù. Un aiuto? Fugia d'alba. Abbiamo un'emergenza. Il missile è quasi pronto a lancio. Come diavolo? Ah, non aveva che lo premonerò. Non c'è tempo. Permesso per la distruzione del missile accordato. Quella cosa ci ostacola. Mettiamo fuori uso quei missili. ricevuto! Va verso la città! Qui, FOS, c'è qualcuno lì? FOS? Qui, Chris Redfield, BSA. Un momento, vi collego all'agente Leon Kennedy. Cosa? Leon, Leon, dove sei? Chris, siamo appena fuori da C, perché? Andate a vere subito! Oh, no! Oh, no! Oh, no! No! Grazie a tutti! Leon! Leon! Stai bene! Ma le cose si mettono male. Mordono. Diavolo! Chris, ascoltami. Devi salvare due ostaggi da un pozzo petrolifero subacqueo. L'agente Sherry Birkin e Jake Müller. È il figlio di Albert Wesker. Wesker! Chris, ha sviluppato gli anticorpi per il virus C. Ricevuto. Vado subito. Bene. Grazie. Leon, aspetta. C'è una cosa che devo dirti. Ada Wong è morto. Ricevuto. Sherry e Jake hanno bisogno di te. Non denudere. Riena di San Cristian e Leo Agnew. Riena di San Cristian. Sperrani di San Cristian. Serti con noi. D'annualmente. Un'altra cosa che dici per il Pagno. Riena di San Cristian. C'è una cosa che quello che sia in fronte. Questa che è un'altra cosa che si chiara.